Qualche minuto fa la differenza tra la vita e la morte dei nostri conterrani. Stiamo parlando di un'elisuperficie realizzata a fianco all'ospedale di Pescara che è sempre funzionata. Poi un bel giorno si invendano un bando di gara, acquistano un elicottero che pesa molto di più della capacità dell'elisuperficie e quindi l'elicottero, l'elisoccorso è costretto ad atterrare all'aeroporto di Pescara. Atterrando all'aeroporto di Pescara il paziente, parliamo di politraumatizzati, sono costretti a salire a bordo di una navetta ambulanza privata, passare nel traffico cittadino, quindi perdere minuti importanti ed arrivare in pronto soccorso. Tra l'altro la navetta non è medicalizzata, quindi il medico a bordo dell'elicottero deve scendere, salire in un'ambulanza, trasportare il paziente in pronto soccorso, ritornare in aeroporto e poi salire nell'elicottero. Questo tempo impedisce all'elicottero di andare a fare altri interventi importanti, soprattutto le aree interne che sono state penalizzate e sprovviste di parte essenziale dell'assistenza sanitaria di base. Non solo, questa navetta diamo un dato importante, un'ambulanza di una società privata ci costa 3.800 euro al mese, più 0,39 centesimi a chilometro, con il costo che si è speso per pagare questa navetta privata avrebbero potuto e dovuto mettere a norma all'elisuperficie che si trova, insiste, a fianco all'ospedale di Pescara. Questa è una cosa importante, noi abbiamo denunciato in passato, non è cambiato nulla, l'elisuperficie ancora non ha norma, non può sostenere e portare il peso dell'elicottero, quindi reiteriamo la richiesta all'amministrazione regionale attuale, al presidente Marsiglio, all'assessore regionale della sanità Veri, di mettere a norma immediatamente, far partire i lavori. Questo può salvare la vita di una persona.